Siamo con Fausto Polobosco, responsabile Bitterc qui alla fiera Wire & Tube. Un feedback sull'andamento di questa fiera? La fiera sta andando molto bene, ci sono grosse soddisfazioni, notevoli contatti. La collaborazione tra Wire & Tube per noi è un mix molto interessante perché la parte Tube ospita notevoli e numerosi potenziali clienti ma la stessa parte Wire con notevoli contatti sia per quanto riguarda i collaboratori sia per quanto riguarda i fornitori, ci dà la possibilità di metterci in mostra. Cosa ne pensi di questo cambio che il Gruppo Pitino porta avanti? Come potrebbe beneficiarne Pinter? Pinter sicuramente nell'ambito della sinergia di Gruppo ci dà ne beneficia in quanto qualsiasi tipo di cambiamento in particolare così importante e così vocale dà degli aspetti positivi a tutte le società del Gruppo. Pitar che è sempre ben conosciuta in quanto è parte del Gruppo Pitino, un gruppo importante che offre sinergie interessanti. Grazie. 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 Grazie.